Ciao a tutti, sono Sabrina Carraro, presidente della DottoTrens, azienda italiana che produce mezzi di trasporto turistici da più di 50 anni. Oggi siamo qui ad Orlando, alla fiera IAP 2018. Presentiamo le nostre linee. Attualmente produciamo sia mezzi motorizzati con motori diesel, ma anche la linea elettrica. La nostra azienda è sempre stata attenta all'ambiente e quindi anche a ridurre l'emissione in atmosfera e ovviamente anche ad un utilizzo molto più silenzioso, perché utilizzando anche i treni elettrici ha anche questa opportunità. Ovviamente ci sono varie tipologie. Abbiamo sia i trenini fani, che sono quelli che sono adatti a girare all'interno di piccoli parchi di divertimento o anche all'interno di shopping mall, per poi passare alla linea classica, alla linea moderna. Entrambi, che possono essere motorizzati con motori diesel e motori elettrici, e attualmente utilizziamo tutte le batterie a litio, hanno la possibilità di poter girare con i mezzi anche 24 ore su 24. Ovviamente la batteria non ha questa durata effettivamente, però con l'utilizzo di caricatori veloci oppure la possibilità di poter cambiare, sostituire il pacco batteria, si può avere un'autonomia molto grande e dare incontro a tutte le esigenze dei nostri clienti.